Ciao ragazzi, purtroppo siamo caduti ancora nel tranello del covid quindi dato che siamo qua tutti i giorni a lavorare e ci sembrava giusto fare gli allenamenti proprio nel luogo di lavoro quindi ma good workout sia per lavorare, guardate un po' il video vicino, vi comprate un bel sacco di cemento così diamo una malta bastarda che così è rivestita da plastica e lo si è truccato e via Prima esercizio, push up col peso sulla schiena, via Presidente questo esercizio faremo il dorso, ovviamente vi l'arrangiassimo quello che si ha noi abbiamo due ruotrever, quindi andremo poi ad attaccarci ai sacchi questo mi assomiglia un po' al dibattito mi è lato in dritta, prendo le mani e mi ha fatto il bambino adesso il classico esercizio per i tre cipiti, i dipiti via adesso abbiamo un esercizio che pochi di voi conoscono e ho preso un po' da calistenzo, però anche un po' grettato e faremo i bicipiti ma anche i dorsali ok, andiamo va bene due parallele due mani facciamo bene la posizione via, opp ok, in questo esercizio vedremo Mattia che farà gli affondi con i prismi ok, via ok, in ultimo per oggi terminiamo qua perché abbiamo andato a volare facciamo il military press, ok? via posto ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata cercheremo di tenervi sempre incollati allo schermo e non farvi annoiare mai alla prossima